Un'altra partita difficile, sicuramente complicata perché il Brescia è una squadra che è stata costruita per tornare in Serie A, per arrivare a giocare nei quartieri alti della classifica e per qualità di rosa e di giocatori che la compongono, è chiaro che questa è una squadra importante per la categoria e quindi ci aspetta un'altra tappa da affrontare con il massimo dell'attenzione, della concentrazione e dell'organizzazione di gioco da parte nostra. Sappiamo che vorranno, perché di noi tutti vogliono fare magari una partita importante, quindi dovremmo farci trovare pronti in questo senso. Non deve commettere l'errore di guai, lo sappiamo, ne abbiamo parlato con i ragazzi, con la squadra, a pensare che abbiamo fatto qualcosa, perché non abbiamo fatto nulla. Abbiamo solo dato vita a un grandissimo percorso di lavoro, di conoscenza, di lavoro sotto tutti gli aspetti, sul piano tattico, sul piano dell'organizzazione, della mentalità, dello spirito, nella preparazione alla partita e su questi fattori dell'unità di intenti da parte di tutto il gruppo si è costruito attraverso dei fatti, una mentalità di gruppo, è un gruppo che sa che da parte dell'allenatore c'è la visione di vedere tutti alla stessa maniera. E a seconda dell'impegno della gara o di più gare che si sviluppano nella partita stessa, l'allenatore prende decisioni sempre e solo per il bene della squadra, della società e del gruppo nel suo collettivo. E tutti sanno, visto che questi sono stati sempre i nostri discorsi che ci siamo fatti all'interno, di dover sentirsi protagonisti. Poi che sia per 20 minuti, per mezz'ora o che sia per 95 minuti non cambia quello che però deve essere l'obiettivo finale, perché in un gioco di squadra, come giusto che sia, non c'è l'io, c'è il noi. Belotti sta lavorando, è un ragazzo che abbiamo portato già sabato scorso un po' sul filo e quindi con timore, tra virgolette, perché sappiamo non era neanche potuto andare alla convocazione della nazionale per il suo problema, è fuori da due mesi e mezzo. Però sta lavorando bene, sta rientrando con il gruppo nei lavori e piano piano sta rientrando a far parte di quello che può essere un nostro discorso anche di scelta, sia iniziale che in corso come sue competenze.